Ogni occasione buona per ribadire a tutti i cittadini, specialmente quelli un po' più grandi di età, di stare attenti, di non aprire a persone che non conoscono, se si professano essere controllori dell'energia elettrica piuttosto che del gas o delle assicurazioni, non devono aprire, devono consultare un proprio familiare, un figlio, un cugino, un nipote, perché stanno girando appunto delle persone, dei truffatori, che si approfittano della buona fede delle persone anziane e con artifici o raggiri si impossessano dei valori, dei soldi che hanno loro in casa. Di fidare purtroppo anche da quei carabinieri che non si conosce. Il nostro è un territorio dove ci sono tante stazioni, i nostri comandanti di stazioni, i nostri carabinieri sono conosciuti dalle persone, quindi i cittadini possono rivolgersi direttamente al comandante, se hanno un dubbio chiamano il loro comandante del paese, del territorio, gli dicono guardi ma qui c'è un carabinieri che non conosco e noi interveniamo subito e per noi è anche un grosso aiuto.